Nello scorso fine settimana si è tenuto un evento per gli appassionati siciliani di fumetti, una a tre giorni svoltasi in tre centri dell'isola, a Sambuca di Sicilia, a Catania, all'aeroporto e a Riposto. Nel comune del porto dell'Etna l'evento era intitolato Zagoriani alle falde dell'Etna dal nome di un personaggio dei fumetti, Zagor. A organizzare la giornata i Bonelliani Siculi, un'associazione che raccoglie gli appassionati di fumetti della casa editrice Bonelli. Grazie alla casa editrice Bonelli, che è la casa editrice più importante d'Italia, ha oltre 60 anni di fumetti, tra cui personaggi molto noti anche ai non lettori di fumetti come Tex Wheeler, Zagor Tenai, Dylan Dog e tanti altri eroi ed anteroi che questa casa editrice ha fornato e che vengono seguiti sia in Italia che all'estero. La casa editrice Bonelli è stata in Sicilia per tre giorni, proprio lo scorso fine settimana, c'è stata una tre giorni dedicata a un personaggio che compie 55 anni, che è Zagor, e si è volta in tre momenti. C'è stato un primo momento a Sambuca di Sicilia, con l'inaugurazione della mostra di un disegnatore siciliano che si chiama Gioevito Nuccio, molto valido, che potrebbe essere uno dei futuri copertinisti della serie addirittura. Poi abbiamo avuto l'onore, grazie ai Bonelliani Siculi, una associazione che si è creata a dicembre di ospitare due disegnatori di caratura nazionale, anzi internazionale, perché proprio il mese scorso sono stati Zagabria, parliamo di Walter Venturi e Marcello Mangiandini, che sono stati ospiti presso un'edicola di riposto per incontrare i lettori, fare delle dediche sugli albi che avevano creato, e dopodiché hanno incontrato altri lettori presso un agriturismo di riposto per una grande festa conclusiva. Quindi ci sono stati circa 100 lettori anche di fuori provincia che sono venuti a riposto per incontrare questi disegnatori inviati dalla Bonelli. Tra l'altro questi due eventi facevano da traino a un evento più importante che è ancora in atto a Catania, presso la zona delle eccellenze siciliane dell'aeroporto di Catania, la mostra intitolata Il Volo di Zagor, creata dallo staff di Etna Comics, una mostra che espone le tavole originali del grande Gallieno Ferio, un copertinista storico di Zagor che ha disegnato le copertine di Zagor per 55 anni fino al momento della morte che è stato il 2 aprile scorso. Quindi grosso avvenimento ripostese, abbiamo avuto l'onore di avere qui in provincia di Catania proprio due disegnatori importanti, perché in Sicilia si è creata questa associazione dal mese di dicembre del 2015 dai Bonelliani Siculi, un gruppo di appassionati che vuole dare lustro alla non arte, al fumetto, diffondendo la cultura del fumetto tra i giovani, perché ormai in Italia l'età media dei lettori è travalica i 40 anni. E quindi è giusto che anche i giovani, oltre che i manga giapponesi, si rendano conto che ci sono dei fumetti molto validi in Italia e che ci sono dei prodotti che possono leggere tranquillamente, divertendosi e accrescendo la loro cultura, perché come dicevo prima riguardano anche argomenti di attualità storici, si approfondiscono molti argomenti nei fumetti. Tra l'altro in Sicilia abbiamo anche dei validi disegnatori, ci sono tre scuole di fumetto molto fiorenti, quella di Palermo soprattutto, ma anche Messina e Catania, e ci sono ottimi disegnatori ai quali la nostra associazione vuole dare lustro, fra gli altri Val Romeo, che è una bravissima disegnatrice messinese, Gioevito Nuccio che nominavo prima, e poi c'è una scuola di disegnatori palermitani, fra cui Salvo Porcara e Sommese Nedicola con un fumetto che si intitola Dragonero, Emanuele Gizzi, Gianluca Cugliotti e tanti altri soggetti esordienti. La nostra associazione vuole dare lustro a loro e vuole creare momenti di aggregazione fra i lettori, diffondere il fumetto e abbinare anche il fumetto al turismo, perché la vocazione turistica della nostra isola si abbina anche al fumetto. Dobbiamo dare lustro alla Sicilia proprio facendo questi avvenimenti, e tant'è che grazie al sindaco di riposto, in agosto ci sarà Fpazio per i buon lirani sicoli, in una settimana della cultura presso il Palazzo delle Conferenze della Cultura, il Palazzo Vigo di Torre Archirafi, faremo un'esposizione di tavole e delle conferenze. E stiamo studiando un progetto con la Ferrovia Circo Mettennea per abbinare delle escursioni turistiche al fumetto e ci saranno ospiti e disegnatori proprio della Ferrovia Circo Mettennea. Quindi ci rivedremo presto, collegatevi su Facebook alla pagina dei buon lirani sicoli e sarete sempre aggiornati dei nostri avvenimenti. Grazie.